Colli Uganei, maxi operazione contro il bracconaggio. Una cinquantina di uomini coordinati dalla Polizia Provinciale hanno setacciato i Colli Uganei in cerca di bracconieri. Un grazie sincero al Comando della Polizia Provinciale e al mondo della Guardiania Volontaria che nell'occasione odierna intendono controllare una zona particolarmente importante del nostro territorio, quella dei Colli Uganei. Dopo aver fatto una serie di servizi su Valle Mille Campi, quindi sulla nostra laguna, oggi tocca appunto alla zona collinare. Un importante segnale di vigilanza del territorio, di controllo del territorio, quindi massimo rispetto per l'ambiente, anche nel periodo non venatorio, ma nel periodo in cui la caccia è chiusa proprio per cercare chi si dice cacciatore ma cacciatore non è, cioè chi effettua il bracconaggio. È un'operazione che permetterà di monitorare la situazione nell'ente Parco Colli Uganei che è uno dei fiori all'occhiello della provincia di Padova per quanto riguarda la questione ambientale. Rammento che all'interno dell'ente Parco Colli Uganei, essendo vietato l'introduzione di qualsiasi tipo di arma, il fatto stesso di introdurre un'arma è un reato, per cui le operazioni, oltre a controllare l'attività di bracconaggio, sarà volta anche a contrastare questo tipo di attività.